Amici buongiorno oggi mi trovo a Doto Kak sono in Croazia facciamo una gara di hard enduro fa parte del campionato di hard enduro croato e siamo qui con per Endurista Magazine a provare la gas gas ranger in una situazione reale di hard enduro quindi vediamo quanto la moto ma soprattutto il pilota possono spingersi in una gara di questo tipo vai vai bravo bravo Allora siamo al checkpoint numero 7 Per fortuna Riccardo mi ha tirato fuori dall'antitazione dove sicuramente rimanimo lì Abbiamo condiviso il retto del percorso e adesso cerchiamo di portarla a casa Grande Ricky Ciao Ciao Vai Ricky Ciao 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 Ciao